Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale di BattleforGames, io sono Carlo, oggi siamo qua con Dello Dello sono qua, sì sono qua E' qua anche lui ancora una volta Siamo ancora su FIFA 15 per fare il secondo episodio della Copia che scoppia L'ultima volta era andata benissimo 4-1 4-1 Easy 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 La squadra è sempre quella, quindi non ve la presentiamo neanche Ma io Questa c'è la Francais La Cavana Cavana La Bersi Lucas C'è il PSG titolare Mamma mia A parte Dio A parte Dio Dio Ibra Ah Parti Eccoci E' partito il secondo episodio della Copia che scoppia E c'è subito Menesca e si bugga Sì forse può darsi No Sì No Può darsi Sì forse funziona Minala Cerchio 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 Lo avevo fatto Lo avevo fatto Lo avevo fatto Tutto uno stupramento qua Ah E' vero che si è bug Un bug ancora C'è un culo io a FIFA Però solo quando sono con te Quando sono da solo ma Passala qua dietro Mamma mia Che azione che ho fatto da solo Non ci vado Basta No ma cazzo l'ho fatto da solo Bello Bello Gioca da solo Cosa devo dire Gioca da solo Guarin No Sì Non è lordino Mettellate Sì vuoi che bei Ho proprio fatto L'esistenza quella così Ci sono No Ho Ho attivato il turbo Adesso Oh e delle perfette se sbagli Perfetto se sbaglio Ecco Io sento C'è un peggiorato un casino la sfida 15 titoli sono migliorato non scherzavo ma giocare a pro club vedi cavani si è bagato a proposito di pro club una gran bella serie se 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 avete degli amici giocateci perché vedo veramente di perdite di una ripetente entori era l'idea si baga tutto si baga tutto si è bagato tutto la a pausa a scusa dai gioca gioca lo fai lo fai lo fa bene lo stesso lo metti lo stesso dai tu problemi uguali come la vuoi come è meglio abbiamo rischiato di prendere due gol comunque ragazzi in questo episodio sta già succedendo di tutto se non avete visto il primo episodio andate a cliccare sulla mia faccia o su quella di carlo e lo troverete ti piacerebbe che te la do ah credevo del primo episodio ahahah ma mamma mia passala dietro così vai sul sicuro hai capito ma che cacchio fa barzagli ma che cacchio fa barzagli aspetta perfetto ha tenuto in campo gol dici che andiamo a prendere il gol eh può darsi no hai visto che ha tirato l'aria scherzare non l'ho riuscita nel 2013 ah esci bravo i tasti caso hai visto che funziona dio mamma dove vai rigore non l'ho ucciso oh l'ha partita più infatti l'ha partita più strana sono stati 39 minuti e 39 secondi più belli della mia vita difficile eh hai visto no aspetta 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 dalla quella attenzione gli schemi troppo lunga no è perfetta tira dio mamma cioè eri anche te non ero neanche io che potevo tirare il vuo corri dubbia abbiamo dubbia contro no dubbia bravo sei stato perfetto dio mamma mia sei stato perfetto hai temporaggiato questa è la classica azione difensiva beness beness no troppo lunga lucido dio al 45esimo la anzi che cacciare la mia forte è scivolata in aria impazzito cos'è ah finito prima di tempo ci sta ragazzi ma hai notato anche te che il recupero è sempre 5 minuti si una volta mi è capitato 4 oh si un'altra 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 il primo tempo più bello della storia amministra gioco non fa non le fa il sole il suo il suo il suo il suo il suo il c il il combo benedertissimo il 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 la 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 catapulta! la catapulta infernale te lo stupro fuori gioco arbitro eci di nuovo io mamma credevo che te l'avessi tirato già addosso il tuo gol di testa che dico l'opera specializzata ci sono i portieri che hanno specializzazione para rigori una luce autogol di decidia una pazza partita parma escilo escilo di nuovo cosa fa? Dio no super diego ropez tiro con barzalli tiro con guarini grazie Dio mamma che gol gol dell'anno stranamente per chi se ne fuote le risultate tutto io che era guarin? perché passate no piani mamma mia che cosa ho fatto regalo io prendo sempre il palo però una volta partito ma si vissate forse provate l'ultimo gol 3-0 che diamo vai vero mi baggo vai si è baggato su secondo troppo 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 potenti sei cose da fare esatto e basta e commenta se vuoi iscriviti iscriviti l'hai detto può darsi leggete la descrizione perché c'è una sorpresa sotto alla fine della descrizione esatto ciao ragazzi ciao ciao